Nella sua cucina si trovano esclusivamente prodotti locali, ma rielaborati in modo raffinato. Fanny Ray è la regina ai fornelli del ristorante Louberge de la Rennes-Jean, a Saint-Rémy-de-Provence. È l'unica donna ad aver ricevuto una stella quest'anno nell'edizione 2017 francese della prestigiosa Guida Michelin. Prima di diventare chef del suo ristorante, ha lavorato a Ritz di Parigi, dove ha incontrato suo marito, il pasticcere Jonathan Wahid. Nel 2012 si sono sposati e da allora i due hanno unito le forze anche in cucina, mescolando piatti elaborati e dessert. Quello che conta è l'amore che mette nelle sue creazioni, racconta il marito. C'è una sensibilità femminile nei suoi piatti e lo trovo grandioso. Tra le specialità di Fanny ci sono conchiglie Saint-Jacques e fonduta di porri con scorza di limone e tartufo nero. Il suo imperativo spiega e valorizzare nel suo menu la ricchezza del territorio. Il fatto che ci siano ancora poche donne chef stellate non la scoraggia. Bisogna essere combattivi, avere temperamento. È una professione in cui serve anche tanta fisicità. Ma le donne possono farcela, dice. Un posto in cucina è chiaramente loro. E dopo aver festeggiato l'ingresso nella Bibbia dei ristoranti, Fanny punta già a ottenere una seconda stella.